Bisogna prendere atto della volontà dei cittadini, siamo in democrazia, è giusto così, i cittadini forse, ripeto, è una cosa che va molto in contraddizione con quello che ho sentito girando tutti i quartieri, l'ho girato tutti, la mentele da parte di tanti cittadini proprio che dicevano per fortuna, l'anzi lei ha deciso di impegnarsi in politica, con lei siamo sicuri che la voteremo perché veramente anche noi speriamo che ci sia una svolta, non una rivoluzione, una svolta, un modo di cambiare perché quando io ho sempre parlato di competenza, trasparenza, lealtà, insomma questi sono valori fondamentali e tanti cittadini parlandoli insomma hanno detto sì, me ne hanno dato atto, quindi va un po' in contraddizione, un esempio emblematico, incredibile, quello lì sono rimasto sorpreso, che tante persone hanno votato per il centro-sinistra a Soria, quando sappiamo benissimo tutta la storia che c'è dietro Soria, delle mille firme raccolte proprio per alcune decisioni prese dal centro-sinistra sul loro quartiere, va bene, però ripeto, la volontà dei cittadini va rispettata assolutamente.